E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E oggi siamo qui con una nuovissima mappa di ProPunt Ebbene sì, siamo dentro gli uffici di Youtube, bellissimi Esattamente, probabilmente la mappa di ProPunt più bella che abbiamo visto È davvero gigantesca, infatti in questo video non riusciremo a sfruttarla tutta Però cercheremo comunque di vedere già dei posti super mega fighi Siamo in compagnia di ESP Giochi e di Luca Finalmente siamo riusciti a tornare a fare un video insieme a loro Nascondino e niente, iniziamo subito ESPETINO, dobbiamo nasconderci Allora, non lo so Ci stanno spiando Ma no, ma no Giratevi Giratevi e non utilizzate le telecamere di Youtube Abbiamo una maschera, quindi non vediamo anche se guardiamo nella vostra direzione ESP, ci penso io Rimango qui ad osservarli, tu nasconditi Ok, d'accordo Ci hanno pregato Verrà registrato tutto quello che fate Ok, ci giriamo dai, guardiamo il panorama Non so come darti indizi su come trovarmi Prova a aprire porte e ti dico in quale porta è giusto Aspetta, 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 aspetta Aprire porte, questo è qui Ok, ok Vi vedi? Su chiudi quello che devi chiudere Chiudi quello che devi chiudere Carino Vedi cosa c'è qua? Vedi cosa c'è qua? Sì, sì, sì Buongiorno Io mi metto qui vicino in un'altra situazione Ok, perfetto Arrivederci Possiamo andare? Quasi Potete andare? Sì, sì, sì Potete andare Dai Luca, andiamo Vediamo un pochettino Non ci troveranno mai Da dove iniziamo? Da qua Wow, una stanza con una porta Cacchio, gli abbiamo dato un grandissimo indizio Stefano E spedimi se è tutto ok Mi tremano le foglie un pochino Stefano Sono zitti Quindi vuol dire che siamo nella stanza giusta Cavolo, non li trovo Allora, sono in cucina per forza Perché ci vedono Inutile che fanno finta di nulla Ci vedono Ok Quindi sono in cucina Ok, va benissimo Queste due lattine Allora, stanno iniziando a buttare giù tutto nella zona della mensa, Espy E stanno distruggendo tutto tantissimo Io mi sto perdendo Espy, cosa hai fatto? Sono qua, sono qua C'è il caffè Luca, Luca, qua, 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 qua Davanti a me Lo vedi nel bancone? No, non mi prendere Non mi prendere Stef Tu mi sei? No, no Sei da solo Sei da solo Ma come fai? Me ne aveva le varie scoprire Dai Che poi è difficilissimo Perché piccolo 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 Non riesce a prenderlo Cioè, se vuoi trovare qua Non ci trovate con abbastanza forza Dai fermo tu Ok No, non sta fermo È impossibile Ci sta facendo perdere tempo Non riesce neanche trovare tempo Tre minuti ancora Non lo so Non lo so È nato Ce l'ha fatta Luca Che bello Cosa sei? Non lo riesco a capire nemmeno io Ok Vabbè, non è difficile Non è molto difficile Allora, che poi Espy L'abbiamo notato solo perché si è mosso Esatto Quindi io ho iniziato a vederlo Muoversi E l'ho notato per quel motivo Posso dare un piccolo indizio? No, Espy Ecco qua Fatti gli affari tuoi Pensa No, è bellissimo È bellissimo È bellissimo Dai Vai, sentiamolo Fa molto contrasto Ok Ok Ci sta Ci sta Ci sta Lo posso accettare Lo posso accettare Ok Comunque C'è un mostro che mi sta spiando Allora, se Espy non si fosse mosso Secondo me non l'avreste mai visto Esatto Perché Ma era per dargli una piccola soddisfazione Stef Altrimenti si sentivano un pochino a disagio Infatti loro stanno iniziando a distruggere la cucina in tutti i modi Però Sì, sì Dato che non hanno capito dove eri messo tu Continuano a non capire dove ero messo io È un bel vantaggio È un bel vantaggio Ottimo Me la sto godendo Due minuti ragazzi belli Due minuti Corri Stef, corri 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 Stef, corri È questo Fere È questo È questo melone Corri Stef, corri Corri Stef Sì, era lui No Ma che tristetto Sei ricchiccito Mi sa Che Luca mi ha trovato perché mi è partito Uno di quei taunt Certo Disfarsa E si è girato all'improvvisato Cosa? E mi ha beccato Faccio una bella cosa Ci riascondiamo anche noi Così se passano di qua non ci notano Vieni qua Non è una buona idea Io un'ottima idea Vieni qua Non è una buona idea Anche perché Fere appena ha visto dove è nato Luca Ha detto wow Quindi io penso che sia un bel nascondiglio Però non sono sicuro Ma vi siete nascosti? Sì, più o meno Più o meno No, non hanno ancora deciso Senti che fa qua 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 Ma possiamo partire? Sì Partiamo? Dai Partiamo Secondo me sono da questo lato anche loro Espi Beh ma secondo me avranno variato Non sono persone così banali Giusto? Non lo so Non lo so Hai trovato un buco a sospetto Un buco? Allora è un bel nascondiglio Penso che avreste molta molta difficoltà Trovarci Davvero tanta Guarda cosa c'è? Ah ma questo è quello di Elion Eibor no? Giusto? È vero Sì 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 Esatto 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 Anch'io l'ho visto prima Allora Io vedo troppe banane qui Espi Vieni a contare queste banane insieme a me Vero? È strano che siano in questa posizione poi Guarda questa centrale Ha una faccina Vedi che quella centrale ha una faccia? Oddio Spara Spara State perdendo tempo Ok State perdendo tempo No Espi Espi mi sa che non sono banane Eh no No mi sa che abbiamo sparato delle inutili banane Esatto Però aspetta Ci sono altre banane nei vari tavoli Sì ma sempre fissato con lo sparare alle banane Steph Espi Espi Guarda che chiamo il WWF Se tu controlli l'altra area e io vado a controllare tutte le sedie Perché ho paura che abbiano fatto le persone cattive Sai non mi fido molto di loro Sì siamo stati persone Cioè siamo persone cattive È un nascondiglio davvero cattivo Però non è da Luca Secondo me non ce la fate Luca è più creativo Ma c'è un indizio Fere? Sì ci può stare Cosa gli possiamo dire? Beh io direi che siamo dello stesso colore delle sedie Esatto Ok Espi cerca qualcosa di rosso Ci sono tantissime cose rosse Il problema è capito Beh sai è un posto fatto di Youtube Youtube ha lo corso quindi Secondo me loro sono delle tazze di Youtube Però dove? Hanno sfruttato il fatto che Però dove? Stai confermando Fere? Però tu dici che sono delle tazze Cerca le tazze Dove sono secondo te le tazze? Ci sono grigciati No 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 Non siamo grigciati Sono ben nascosti Siamo nascosti Siamo nascosti Siamo nascosti in modo onesto Non abbiamo sfruttato né bug né niente Quindi devi solo trovarci Siamo da Espi 1.50 Siamo nella zona di Espi Esatto Arrivo Ho distrutto tutta la mensa inutilmente Quindi Complimenti Grazie Mamma mia Però è stato divertente Nel magazzino E qui non c'è niente di rosso Capisci? Aspetta No Non c'è niente di rosso Steph Amati i fili Non penso siano diventati fili E al Espi Espi Allora 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 Corri Spara lì Dove? Una morta Una morta Una morta Allora Te lo faccio vedere Guarda lì sopra Vedi quella trave Io me ne vado Oh si sono fatti Io me ne vado Io me ne vado Vedi che Non lo va bene E qui e qui E qui la vedo Mi mette i server Mi mette i server La sto seguendo Aperto la porta Andiamo E lenta E lenta Però se l'avete fatta Solo perché Praticamente vi abbiamo detto Dove eravamo Non lo trovavo Ti siete stati abbastanza gentili Abbiamo dato tanti indizi Mi dispiace Tu ma non saresti ancora nella messa Ma quando mai A picchiare tutte le sedie La cercarei È vero Sì è vero Sarei rimasto fino alla fine lì Però era un bello Spie Fere ha visto il mio schermo Fere ha visto il mio schermo Perché ci stavo parlando Fere sei una persona terribile Adesso ci cerca Solo Luca Ok Ok Vai Mi cerca solo Luca Espi Allora E' terribile Allora Facciamo che io rimango con Luca Ma non dico nulla Ok Esatto 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 Ma secondo me Io vi dico una cosa Aspetta Cioè Luca appena vive Adesso ne accorge Anche senza che io gli dica nulla No No Ci siamo nascosti davvero bene Io non sto dicendo niente a Luca Non ci trova Non ci trova Siamo nascosti troppo bene Secondo me Non ci può vedere Siamo proprio Quasi glitchati nella mappa Io vedo un sacco di cose strane Sai le tasse mi hanno ispirato anche a me Piccole 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 Sì Guarda che controllo i cestini Disgraziato I cestini sono un bel nascosti Allora Personalmente Ha già funzionato Espi Sei d'accordo? Cioè Magari non vinciamo Però Aspetta aspetta Anche questo è un bel indizio Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Guarda che Io non ho notato che era spostata E tu sì che noti tutto Luca E tu sì Che occhio di falco Nota tutti i dettagli Proprio Tutti i piccoli dettagli E particolari di ogni situazione Guarda che adesso se ne accorge Perché glielo state facendo capire Che cosa? Che cosa? A me non sembra che si sia ancora accorto di nulla Secondo me sì Spari a una e io sparo all'altra Vai Vai Luca Spara a te cosa? Perché non è vero Ma cosa? Io avevo detto che se ne accostava da solo Espi Si sono nascosti nell'altra parte Questa volta sarà difficile Sì Oh no Qua è pieno di posti strani Dobbiamo controllare La parte migliore Ogni singola cosa Tutto il bagno degli uomini O in quello delle donne Ok perfetto Aspetta c'è un estintore Il bagno delle donne Steph normale Espi qua ci sono cose strane C'è una cacca Che mi segue Wow Mi sta proprio fissando Se io mi muovo Lei si muove E continua a fissarmi Come la paperella gay su Tower United Guardala Guardala Vedi che ci segue Ci penso io Non posso neanche spararla Non usare violenza contro le cacca Questi bagni li hai controllati? Eh sì A parte l'estintore Non ho trovato niente di particolare Ok Ok No non fai finta di nulla Andiamo Andiamo Non ci dobbiamo più far distrarre Perché loro ci stanno fregando Scusa Steph Steph ma cosa è questa cosa? Cosa? Questo Cosa ha visto? Non so di cosa stanno parlando Ma l'hai preso? Te l'ha dato? Buongiorno Espi ha appena preso un bazooka Benissimo Come un bazooka L'ho mai trovato? Sì c'era un bazooka per le emergenze E' era così Espi Fagli vedere il bazooka Fagli vedere il bazooka Fagli vedere il bazooka Guardala Vabbè non lo uso se non è necessario Non preoccupatevi Secondo me sono in questo magazzino In questo magazzino Mi ispira Qua sopra le scale Guardali che sono sull'ascensore Ci vedono Eh sì Ci vedono Qua c'è l'ascensore Qua c'è l'ascensore Espi Quindi ci stanno vedendo Ci stanno vedendo E possiamo trovarli Maledetti Allora abbiamo 4 minuti Guardali con i barili Ok Ok Ci vedono Ci vedono Ci vedono Ci vedono Espi Possono essere questi così No perché si muovono Quando gli spari Quindi in teoria no Si guarda come oscillano Guarda come ondeggiano Lui non sa ondeggiare così bene Non so Espi Non so Secondo me Ce n'è qualcuno di troppo In giro per la mappa Espi mi sembra molto vicino qui E' vero Forse sono veramente nel magazzino Mi sa che c'hai ragione Steph all'inizio Eh sì 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 Con gli scafali Con le scatole I barili Eh Ho avuto troppo convinzione Nello sparare Espi Diciamo che ero Morto E' morto Steph Ero un po' troppo sicuro Di me stesso Allora Steph Visto che sei morto Vuoi vedere dove sono Guarda Ma come no Ma lui deve aiutarmi A cercarli Così è troppo spoileroso E come hai fatto a vederci Cioè come faceva Luca Non chiedermelo Cioè Siete insieme Non vi vedeva E qui Sapeva solo Che nel magazzino Ci sono i barili Le scatole Ho detto Steph Che ci stavano trollando Sì vabbè ma Dannazione Non pensavo Lo facesse così bene Aveva anche un bel tempismo Fortuna Ho bravura Ho bravura Non c'è speranza Dammi un altro Quindi non sono nel magazzino No 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 Credo che siano più avanti Non so neanche che zona sia Io vabbiamo vicino allo shop Uh Espi ti ho visto cadere Che paura Allora prova Non c'è Non c'è Vai dritto Vai dritto Io ti dico giusto Se sarai nella zona giusta A me sembra questa la zona Credo Sì 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 Vicino allo shop Ma non nello shop Sei nella zona Sei nella zona Quindi non tornare mai più Nell'altro corridoi Perché sei nella zona giusta Hai un minuto È tornato indietro Hai un minuto Quindi diciamo che Bottiglie Venite qua Espi La bottiglia a posto Espi Povere bottiglie Ok Schedari 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 Bravo Schedari Niente Guardare anche quelle piante alle tue spalle Niente Espi Controllerei bene Sei sicuro Espi Come sicuro F Non No No Sono sicuro Qualcosa di sospettoso In questo scaffale Perché è rimasto dritto Qualcuno mi sa dire Se gli scaffali dei giorni nostri Secondo me è il momento Di vedere Gli argomenti altrui invalidi Con un bel bazooka Espi Tirà fuori il bazooka Ok ma tanto non troverei mai Luca Espi Mi dispiace Allora ho una granata E ho il bazooka Quindi ho il doppio Espi Vedi la zona Usa il bazooka Nella zona degli schedari Si è mosso Si è mosso Espi Ma non vedi nulla Come? Ma dai Non te lo dico Non te lo dico Non ti meriti di sapere Ti è dietro tutto al tempo E neanche te ne accorgi Non ci credo Era così vicino Ma dove hai trovato lo scheletro? Maledetto Per essere la prima volta che avete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Ciao